L'identità territoriale per lo sviluppo sostenibile e duraturo della vitivinicoltura abruzzese è stato questo il tema dell'incontro svoltosi all'Università degli Studi di Teramo. Una giornata di studio focalizzata sulla formazione universitaria con particolare riguardo alle necessità di attualizzare le competenze transdisciplinari nella filiera viticola ed enologica in considerazione dei nuovi regolamenti e strategie comunitarie. Sono presenti anche le scuole perché è il comparto viticolo-enologico, un comparto estremamente importante sia dal punto di vista economico che strategico per la nostra regione e per l'Italia intera, quindi si discuterà del ruolo della formazione, del ruolo della ricerca, quindi le competenze necessarie per affrontare questo settore nel miglior modo possibile e si ribadirà la necessaria collaborazione e interazione tra il mondo della formazione, quindi l'università, e il mondo della produzione. Presente all'incontro anche Alessandro Nicodemi, neopresidente del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo, che ha parlato dei piani che il Consorzio sta mettendo in campo tramite le opportunità offerte dei bandi europei dal PNRR per portare a compimento il modello Abruzzo con la riorganizzazione dei disciplinari di produzione e l'introduzione delle misure proposte per la regolamentazione del mercato. Questo nuovo modello che vedrà la luce di due categorie importanti, il superiore e il riserva, però legate in maniera indissolubile ai propri territori di provenienza, che nel nostro caso sono le quattro sottozone a carattere provinciale. Quindi un domani, diciamo il nostro Montepulciano, Trebbiano, Cerasola, Doc Abruzzo, le nostre quattro doc di riferimento, se vorranno freggiarsi della menzione superiore o riserva, dovranno per forza portare in denominazione la propria sottozona, colline terramane o colline pescaresi, terra di Chieti o terra dell'Aquila. Questo proprio per identificare sempre di più un prodotto sicuramente a carattere regionale, ma nel nostro caso calato proprio sulle nostre province. Diciamo che il nostro vino sicuramente è apprezzato a livello internazionale, sono i dati che ce lo dicono, l'80% della nostra produzione esce dai confini non solo regionali ma anche nazionali. proprio a testimonianza del fatto che il nostro vitigno e il nostro vino è un prodotto che può essere bevuto sia come vino di pronta beva ma soprattutto anche portato nel tempo come vino da meditazione.